Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi nuova Tech Profile in compagnia di Francesco. Ciao Francesco. E ci porta un bellissimo Artagro Warrior. Formato 4, tanto l'avete già letto nel titolo. Allora, ci vuoi dare qualche chicca su questo mazzo innanzitutto? Io è la prima volta che sento questo mix di questi mazzi. Allora, innanzitutto era semplicemente un terra agro, poi l'ho modificato e ho pensato di farlo anche Warrior, visto che molti dei mostri terra erano appunto Wario e ho pensato di unire questi due mazzi. Di mixare questi due mazzi e facendone un terzo con le potenzialità di entrambi. Vai, presentaci la Main. Aspetta, prima di continuare col video voglio ringraziare il nostro sponsor, la Tira del Fumetto. Potete trovare da loro tutti i prodotti Sigillati, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, One Piece. E con il codice sconto MARK riceverete un buono sconto dal 7 al 10%. In più, sopra 60€ la spedizione gratuita. Allora, di Main gioco 3 forze d'attacco Goblin, è la normal più forte del formato, 2003. Va sopra Sorcio, va sopra Spia, anche contro Warrior è forte perché nel 2003 Warrior gioca Cavaliere Lamaca al massimo a 2000. Unica cacca va in difesa quando attacca, però diciamo l'avversario molte volte lo puscia perché c'è zero di difesa e quindi il turno dopo noi... Poi possiamo rispostare in attacco e fare il secondo attacco. Sì. Poi il gioco, dopo lo vedremo, vorrei dire attacco finale che qua lo risposta subito in attacco. Sì, lo risposta subito in attacco, sì, sì. Quindi fa sinergia. Beh, è una delle combo basi tra l'altro del Terragro. Sì, sì. Che c'è proprio lui che... Non entro nelle liste, però io lo gioco. Secondo me è fondamentale. Cioè, da ignorante è fondamentale. Perché poi anche semplicemente settarlo in difesa, se ti attacca non scopri la carta, lui va in attacco, prende la differenza di danno. Non può cambiare il target perché non è cambiato un po' di mostri e quindi si fa dare. Esatto, esatto, quindi non c'è il replay. E ultima cosa, possiamo semplicemente giocarlo in attacco e aspettare. Perché comunque un muro di 2003 non c'è bisogno che attacchiamo per forza rischiando che va in difesa. Possiamo semplicemente lasciarlo in attacco. Non c'è solo una riflessa e quant'altro. Vai, vai. Trigigantes. Aspetta che se vuoi fare che è, li mettiamo qua. Trigigantes. È la special del mazzo, 1.900, quindi bitta. E in battaglia, se viene distrutto in battaglia, fa tempesta potente. Quindi è molto utile per questo mazzo. Che gioca principalmente con la board. Certo. Poi comunque è uno special del 1.900. È uno special del 1.900. Che in GOT le special sono fortissime. Tanta roba. Due berserk, semplicemente bitta, no? Se può attaccare deve attaccare. Perché no, direi. Quindi prende, attacca, fa cattive e... Niente. Niente. Il suo scopo è solo schierare. Fa male. Due sovrappistosi di te. D'Assalitori. D'Assalitori. E la versione ne è fata della signora, però con 1.700 di attacco, quindi sempre aggro. È forte da Tsukuyomi, visto che la maggior parte dei mosti che abbiamo sono deboli da Tsukuyomi nel 2006. Certo. Se c'è il Jinzo, anche se il VLS, prendi, vai, attacchi e avvio. La signora è la parte più forte, quindi a differenza dell'Assalitore, lei magari consorcio in difesa, lei lo può bannare. Certo. Magari può bannare anche Sanghan se lo schiava. Insomma. Peck Shielded, niente da dire. Tributo di spacchi. Tributo di spacchi ogni cosa. Fortissimo. Scoperto, scoperto quello che è. Lili. Lili. Wind Condition. Fortissimo. Tre stelle. Niente da dire. Paghi 2.000. Pompite 3.000. E via. Poi parte Warrior. Bella. Sono Special, doppio saccheggiatore, fanno sinergia. Terra. Proteggono tra l'attacco goblin. Sì, proteggono tra l'attacco goblin. Molte volte riesco a fare Capitano, Special, Gigantes e in pratica con un turno riesco a evocare anche 3 massimo 4 mosti con Burial. Insomma. L'ottica appa così. L'ottica appare. L'ottica appare. Giara. Allora, Giara non è in tutte le liste, l'ho inserita io perché è in tutto e terra. E poi diciamo il problema principale di questo mazzo sono le carte in mano. Che ce n'è sempre poche perché cari tutto quanto c'è. Sì. Con questa è un più 5 gratuito. Io non lo adoro molto giocare perché gli do pure il più 5 all'avversario. Sì. Che è molto pericolosa. Però l'avversario spesso ha carte in mano. Carte in mano tipo Turbo ha sempre la hand diciamo con minimo 4-5 carte. Mentre io no. Cioè io comunque ho da guadagnare. L'unico problema è l'unico uno dei paghi mosti flip. Gioco quasi tutti in attacco quindi soffro il nobiluomo. Sì. Perché magari mi... Sono lasciato in mano molto fixe. Sì. Esatto. Però mi sono sempre durato bene. Spadaccino. Nobiluomo fatto persona. Nobiluomo fatto persona. Forte contro spia. Forte contro tutti i mazzi Turbo. Chaos. I vari caos. Qualsiasi flip. Andiamo via. Fortissimo. Breaker stable. Che comunque mi aiuta anche con l'effetto per togliere le carte settate. E quindi poi dopo bittare. Con il fatto del segnalino che scocchino. Sì. Anche che non è a terra però è troppo forte. Ci va sempre. È Nevergreen. Forte stable. Questo. Questi erano i mostri. Trinità. Trinità. Sempre lei. Trinità niente da dire. Cioè ormai insomma. Due schiacciare. Forti contro Terra. Forti contro BLS. Tutti i mostri scomodi da levare. Loro te li tolgono. E attacchi. Certo. Pulisci prima di attaccare. Stesso discorso. Nobiluomo. Vabbè. Tu nobiluomo soprattutto per il fatto che ci scopri così. Doveva il terreno all'avversario. Come magia e trappole. Doveva il terreno all'avversario. Perché i mostri media devono attaccare. Devi chiudere subito. Esatto. Rinforzi dell'esercito. Essendo Terra Warrior. Esercito dell'80% dei mostri. Sì. Tutto ciò che mi è utile in quel momento. Chiaro. Snatch. Staple. Tempesta. Staple. Tifone. Staple. Burial fortissimo in questo mazzo. Perché comunque avranno un mostro forte che ti può far chiudere la partita. Un record continuo. Controlla mente. Allora inizialmente avevo controllo della mente. Sì. Però era molto situazionale. Con questo posso prendere. Se lo pesco. Lo posso usare. Sempre. Sia che il mostro è coperto. Sia che è scoperto. Non ci posso attaccare. Però comunque sia levo un mostro. Un potenziale mostro. E quindi io a campo libero. Non ci può attaccare. Però ad esempio a differenza di altre carte di vocatura. Che lo penso. Del moderno. Sì. Con questo qui va attivare gli effetti. Sì. Infatti. Essendo un meta di caos. Tu prendi un mostro coperto. Magari Capitano Maga della Fede. Ti prendi una magia. Capitano Decoici. Peschi 1. Fortissimo. E mi trovo bene. Era il gioco di main. Vai con le trappole. Finito di Magia con le trappole. Ah. Iniziamo con tre giudizi. Che l'ho messi da poco. Prima giocavo tre tornati di polvere. Grossissimo il giudizio. Allora. Giudizio va giocato. Per forza in triplice copia. Non in due. Non in una. Perché? Perché il primo lo paghi tanto. Il secondo lo paghi normale. Il terzo è praticamente quasi gratuito. Quindi perché giocarne due quando il terzo è praticamente gratuito. Anche quando sei 8000. Vai 4000. Vai 2000. Al terzo paghi 1000. Quindi tanto vale giocarne tre. È forte contro forza riflessa. È forte contro ogni cosa. Contro ogni cosa. Però principalmente questo mazzo soffre snatch e forza riflessa. Quindi questo lo paghi principalmente. Poi. Stable. Per richiamo. Sempre lo stesso discorso di Burial. Certo. Per richiamo. Per richiamo. Sempre lo stesso discorso di Burial. Un mostro. Che te vale. Scessa del fuoco. Gioco di main. Sempre per il discorso che il meta è principalmente composto dai mazzi caos. Poi comunque il tuo fa parecchio danno. Sì. Ma in punto pure che non riesci a chiudere. C'hai comunque perso di solito tre mostri. Sì. Come minimo. Quindi. Più si scopre non attivano gli effetti. È fortissimo. Esatto. Questo mazzo sinergizza tanto. E poi. L'ordine d'attacco finale. Ripeto. Secondo me. Ci dovrebbe proprio per forza stare. In una groterra dove gioca. Sì. Cioè. Per forza. Sono proprio pubblicamente. Perfetto. Main finito. Troppo le finite. Adesso. Allora. Di side. Gioco. Sciogli lingua. Tre tigri. Allora. Fortissime. Contro. I got. Quindi. Got. Contro. A differenza della side. Dei caos. Quindi. Li vedo di più. Sono terra. 1.7. Fortissime contro i capri. Cioè. Must. Non devono. Non devono. Kiko. Kiko stesso discorso contro i caos. Anche contro mirror. Perché gigantes. Bannano. Dal cimitero. Quindi. Forti. Quasi contro di matchup. Sì. So fortissimi Kiko. L'unica cosa. Sono oscurità però. Non fa niente. Sono troppo forti. Vanno sei dati. Contro warrior. Quasi quasi. Non c'è neanche bisogno. Perché comunque sia. Come ho detto prima. Giocando comunque. Do berserk. Giocando. Di attacchi goblin. Già io li supero. Però. Comunque. Terra. Contro warrior. Lunetti. Questa è fresca. Aggiunta. Adesso. Sempre per il solito discorso. Delle trappole. Soprattutto mirror. Armatura. Sicurezza. Voglio avere il via libera. Specialmente in battle. Gioca molto così. Che ti salita. Per proteggersi. Vive walk. Specialmente contro barn. Attacco. Ma forse attacco goblin. Vai in difesa. Posso giocare walk. Tanto comunque. Ma forse attacco goblin in difesa. Con zero di difesa. Comunque. Mi faccio un più 2003. Contro barn. Matcha benissimo. Poi. Insomma. Passiamo quella del ricotta. Quindi fatica molto il barn. A chiudere. A sprecarsi. Spade riunatrici. Una carta che mi piace. Godagno anche 3 turni. Per pescare altre 3 carte. Visto con un mazzo. Dove tendenzialmente. Hai poche carte in mano. Poi contro mazzi aggressivi. Comunque. Fanno comodo. In situazioni scomode. Anche contro i caos. Se giocano BLS. Una roba così. O che c'è quello che ti pare. Per serra. Ma aspetti comunque 3 turni. Però comunque. Una carta che mi piace. Al gioco. Mi ci trovo bene. Allora. Ho. Per esempio. La signora guerriera di Dio. 3 gigantes. Assalitore di Dio. Tanti mosti rimossi. E questa qua. Comunque delle volte. Per chiudere. Buona. E qualche carta. Che contro l'altro mazzo è inutile. Sì. Mi ha fatto chiudere parecchie partite. Sedandola in secondi. Beh. È una sorpresa che noi. Sì. È una bella carta. Dispositivo. Niente. Deva un muscolo. Rimbarzi. Rimbarzi. Sì. Dall'extra. Rimbarzi. Nell'extra. Buon lavoro. Dottorimitare mille occhi. Sì. E vai diretto. Il tributo. E lo gioco di side. Perché di main. Comunque io ho sempre il campo pieno. In genere. Quindi molte volte. Fa più malattete. Fa più malattete. Fa più malattete. Però comunque sia. Lo giochi. Di side. Magari. Trovi un match up. Anche dei mirror. De volte va assai dato. Non lo gioco. Non lo sai. Lo spesso. Comunque ce l'ho lì. Perché comunque. È una carta stable. La giocano quasi tutti. Con un altro mese. Con un altro mese. Il primo trono dell'appressario. Che cala un sacco di roba. Tra gli anni. Nella carta e va ammessa. I succhiano maghi. Questa carta. Niente la metto perché. Le magie. Questo formato. Sono fortissime. In questa. Ancricate. fortissima il costo non c'è quindi perché non metto le design certo anche contro di sign armatura continui mazzi altro nei ministri ma comunque come ha detto prima i muri ce li ho quindi anche se mettono forza attacco gobby dunque è difficile che l'avversario buca la difesa però un'armatura ultima ultima giornata di polvere lo inserisco proprio stare tra tranquillo e le varie le settate all'avversario e soprattutto qualcuno che sta alla parecchia di quali variabili radiazionali su quella che aveva un posto che prima gli giocavo al posto dei solenni quindi avevo uno slot libero non ho messo un altro per sicurezza sicuramente il solenni ne fa sicuramente più il dovere di suo ampio spettro piuttosto mettiamo caso troviamo un match up dove sarà che non so un ruolo di armature sakuretso magari anche sei date metto anche intorno di polvere in più giusto per stare sicuri certo e niente questa era la profile di questo marzo terragro quasi trovato una quadra però ancora stai persi ancora stampa in costruzione però diciamo gira bene c'è il suolo fa gira bene per ora va perfetto francesco noi ringraziamo tantissime se state con noi e vi ricordiamo ragazzi che vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace se avete consigli suggerimenti e quant'altro fateci un commento mi raccomando iscrivetevi al canale ai mille iscritti faremo un altro contest da paura e grazie mille ragazzi ci vediamo un prossimo video ciao ciao